Sì, Tulio, qua però la televisione telegiornale dice che c'è un maniaco in città C'è uno che ti entra direttamente in casa e ti ammazza, cioè c'è un coltello che è quando un macete E va bene, ma anche se c'è la porta blindata Io per esempio c'ho la porta blindata Cioè tu non puoi entrare, è impenetrabile Cioè anche con le chiavi non puoi entrare Io c'è te volte con tutto ciò che giro, cerco di entrare A casa mia con le chiavi, non riesco ad entrare Però intanto ho sempre paura lo stesso Comunque di questa specie di maniaco Questa specie di mostro Eh, scusami Tulio Tulio, ho sentito un rumore No, veramente, non ce la faccio più Mi sto cagando addosso io No, 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 basta But first, let me take a selfie Ciao a tutti ragazzi Io sono Dorian B e benvenuti in questo nuovo gameplay Della mia solita espansione di Outlast Ovvero Dorian B House Mi raccomando mettete un bel mi piace su questo video E andiamo avanti Stavolta è notte e partiamo già direttamente Con la batteria scarica Fenomenale, bellissimo Col cazzo Andiamo nell'altra stanza Che come al solito Credo che sia in disordine Perché in Outlast È tutto in disordine ragazzi Anche il cervello dei programmatori È in disordine Bellissima visuale che abbiamo qui Della signora che dorme Buonanotte signora Lei come al solito dorme John, stai calmo Calmo, calmo John, aspetta, aspetta, aspetta But first Let me take a selfie Let me take a selfie Oh cristo santo Cristo santo Spara, spara Come cazzo spara Lo spara Taglia, lancia Questa pistola non taglia Non taglia questa pistola Guarda Guarda Non taglia qualcosa Non fa niente Ma come si usa Stai saltando Stai saltando Stai saltando No Aspetta But first Let me take a selfie Yes Yeah Raga E se non siete ancora iscritti Al mio canale Iscrivetevi al mio canale Mettete mi piace Condividete Commentate E guardatevi questi video qua E ricordatevi sempre But first Let me take a selfie Let me take a selfie